Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi come ogni mese siamo qui con un nuovo video lotto di roba che ho comprato ultimamente detto questo però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da jack store il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani trovate il link del loro store e il mio codice ascolto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carta di yugi magic pokemon dragon ball one piece force will e digimon come ha fatto il ragazzo trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo io procederei con l'unboxing bene andiamo con l'apertura spero di non aver pugnalato le carte perché potrebbe essere un problema ci dovrebbe essere un access code secret e spero assolutamente di non averlo danneggiato altrimenti so cazzo no no grazie a dio il tipo è stato molto previdente conoscendomi e ha protetto molto bene le carte e io sono stato molto fortunato a pugnalare dalla parte giusta o no no grazie a dio ha messo tutto dentro i deck box bene potevo pugnalare quante volte volevo questa scatola allora bene bene andiamo con questi due deck box che dovrebbero essere pieni di roba spero e andiamo effettivamente a vedere le carte perché nel pratico la roba l'ho comprata tanto tempo fa quindi non so effettivamente cosa ci sia di costoso ricordo l'access code poi per il resto è un po così il problema è che ragazzo non aveva le slive e quindi le carte non sono slivate tranne queste e queste che dovrebbero effettivamente essere la roba più costosa che andremo ovviamente a vedere dopo allora questa c'è scritto due euro andiamo a vedere togliamo i deck box ho visto già rose potrebbero esserci carte sky allora abbiamo un po di roba pk si resta drago ribellione cavali fantasma della brigata rugginosa che forse non ce l'avevo metterò nell'album delle staples ga 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 magician il knight no ragno link in tedesco la lingua degli dei poi unicorn vabbè cose a caso sempre pk piccolo apprendista da pack carina da cio poi abbiamo il requiem oscuro il rebellio codificatore altra roba pk credo ci sia tutto il mazzo a questo punto però ci sia anche quello bellino che si gioca sì eccolo abbiamo la fog blade che questa molto spesso non si trova cioè la gente quando mi vende le basi pk non ce la mette non so perché poi per non si ooo inglese questa quella prima era crocca bella molto bellina come carta assolutamente vediamo le condizioni che mi sembrano assolutamente buone perfetto perché secret per le mani non mi era mai capitata e devo ammettere che è veramente figa ha un artwork spettacolare e la foilatura così rende un sacco poi abbiamo vabbè la terza in crocco e altra robina un po del cazzo tutte common per avrebbe ok l'altra flow fog blade vediamo se abbiamo pure la terza abbiamo teleport ok la terza fog blade ero in qualcosa di un pochino realizzato mi sa che oramai la roba buona l'ho tirata tutta fuori buona della roba pk qua abbiamo solo questo che comunque nel senso qualcosina di bellino c'è peccato aglio di carta un po nella lingua degli dei ma ok visto roba interessante sembra roba scararizzata fermi ragazzi se volete supportare questo canale vi ricordo che vi basta solamente mettere mi piace commentare e iscrivervi a voi questa cosa non cambia niente ma a me da un supporto enorme perché permette di far girare questi video molto di più e farli arrivare effettivamente a tutta la community ringrazio ovviamente chi lo farà gli altri bisogna dirlo siete un po figli di puttana e niente vi lascio al resto dell'otto abbiamo allora una rose che se fosse stata teen o prisma poteva essere molto interessante poi cerbero agliate un po così agliate un po così da mamma se che da mamma un'altra agliate da mamma kagari da mamma vabbè abbiamo capito che qua sky non mi darà molte soddisfazioni eh un'altra kagari un'altra shizu kaina almeno è da sas nightmare o andiamo con le magie tra poi vediamo se c'è qualcosa di più interessante onde interferenza questa che ragazzi sta un botto tipo 7 8 euro quindi top peccato che non è secret e spero non sia in monopera poi 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 vabbè terraforming ha visto tempi migliori un'altra rose gold che mi fa sboccare multiruolo che adesso che è due mail poi abbiamo engage ciclone droni vabbè questa è tutta roba abbastanza standard supporto un uovo di mamma poi abbiamo il kaiju un'altra carta inutile un'altra carta inutile no questa è carina l'altra carta inutile l'altra carta inutile di nuovo il kaiju di nuovo il kaiju e uh linkage queste ottime tanta roba perché adesso che hanno un monolinkage un po' deludente comunque son salito un pochino di prezzo non tanto però tipo da 5 6 euro sono passati a 8 uh secondo linkage top bene spero ci sia anche la terza abbiamo raie altra raie altra raie e terza linkage perfetto quindi ragazzi se volete uno sky ho uno sky da vendere poi vabbè area 0 area 0 vabbè carte che non ci interessano ancora ho la netta sensazione di averle valutate secret dopo dovrò riguardare le foto ho i parallel questi almeno così no due spero ci sia pure il terzo perché almeno così attappo il buco del di quelli che mi sono stati rubati poi equimax pata zeroboros magius crusadia vabbè roba crusadia un limite di mille occhi che comunque ci sta ragnolink uh bello da mp 18 questo è bellino questo lo tiro dentro l'album delle staple non mi serve però dai buttamocelo lo stesso allora andiamo avanti ci sia un po' di roba utopia vedendo dalle carte utopia onomatopea che comunque questa è carina dovrebbe stare a qualcosa poi abbiamo la seconda onomatopea la terza più che altro sta un po' perché ha avuto monoprint e quindi monoprint utopia il prezzo sale poi vabbè tanta roba penso molto paltosa tanto è tutta roba uh bello drago di sicurezza questo me lo tengo da parte per me questo ce l'ho vabbè questo poi c'è altra roba utopia questo non so se sta a qualcosa dagli off non me lo sono mai chiesto e non l'ho mai controllato vabbè vedrò dopo utopia numero 100 anche questo carino me lo tengo da parte perché mi sa che non ce l'ho il mago kkk così s0 c39 e poi per il resto vabbè un paio di colled e basta passiamo alla roba crusadia se ha qualche cartina interessante al suo interno e e e e vabbè c'è un qualche no il kaiju me lo tengo perché non dovrei avercelo poi roba crusadia altro kaiju no gadarla ce l'ho radian ce l'ho e gamesiel porca troia i miei secret sono andati e ecco il terzo parallele che mi serviva top poi il maximum e basta poi abbiamo la debug ginella roba signet si vediamo c'è tutto dopo dovrò andare a controllare bene le foto allora mostro esuscitato twin twister che questo non è male gold carino altra roba paltosa poi usadia americana però visto tempi migliori peccato vabbè tanto non dovrebbe stare troppo poi abbiamo un'altra kagari roba a caso lui secret da bro che non conta un caso vengo da parte questo sta qualcosina se non ricordo male 45 euro adesso passiamo effettivamente a quello che costa o quello che era slivato allora ok ok o equazione carta buona questo anche no questo va bene quante ce ne sono dovrebbero essere un play set penso ok questo è un sommare poi abbiamo rejacking infinity sì infiniti in permanenza infinita in francese con qualche difetto poi abbiamo triplash credo in lingua umana ok l'inglese perfetto poi abbiamo altri due parallel e siamo a 5 vediamo poi tre circolare che ci hanno qualche difetto va bene poi abbiamo un bagusca che ci sta poi abbiamo vabbè un dalambertiano una beatrice un numero 39 da doppi utopia anche questo non sta poco quindi me lo tengo da parte poi un cherubini americano dopo un mcknight avramack mi sa che manca qualcosa comunque due lynch fia poi un clock e uno spariti a caso però manca qualcosa c'è un sigma solo dovevano essere due poi ha utopia vittoria che ha un po' di difetti poi un ibly in lingua umana sì vabbè questa che è una common e access code che vediamo un attimo le condizioni che è la carta più costosa del set che è da blcr però è messa abbastanza bene più che altro perché c'era qualche cartina rovinata meglio così che non sono tante bene bene ragazzi non mi posso lamentare mi sono portato a caso un bel access code peccato è da blcr non è da etico però comunque nel senso è una cartina bella onesta detto questo ragazzi fatemi sapere qua sotto con un commento se volete effettivamente uno sky che ce l'ho forse manca un post bruciatore però per il resto ci dovrebbe essere tutto e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti